una porta, diamo una porta scotte nel canale questa è la macchina questa è la macchina questa è la macchina dove si tratta e dove si muove la sera questa è la macchina stessa la caschina la macchina che si tratta e il mio padre che si tratta Grazie a tutti.